1 gennaio 1980 Muore a Roma Pietro Nenni, politico italiano che ha rappresentato per oltre mezzo secolo la storia e gli ideali del movimento socialista italiano. Quando Pietro Nenni muore, il partito socialista italiano è ormai saldamente nelle mani del suo delfino, Bettino Craxi. Enzo Biagi ha scritto di Nenni, conosceva la gente. Senatore, i giovani in che cosa sbagliano? Lei che cosa gli consiglierebbe? Probabilmente l'errore principale che fanno i giovani è che hanno fatto tutti i giovani, che abbiamo fatto ognuno di noi. Quando è stato giovane è di credere che il mondo comincia da loro, come noi credevamo che il mondo cominciava da noi e che tutto sia da distruggere. nella eredità che noi abbiamo ricevuto, mentre ci sono molte cose che non sono da distruggere e ce ne sono moltissime che sono da trasformare e da modificare. Per questo occorre che i giovani abbiano meno fiducia nei miti della violenza e molta più fiducia nella forza delle idee, nel coraggio della perseveranza e nell'azione collettiva di un popolo.